Più di 400 punti vendita in 7 regioni d'Italia, Ariano Irpino in Campania si riappropria del Marchio Deco, l'inaugurazione stamane nel popoloso Rione Martiri. Un gruppo che è valido, che ci ha portato per mano fino ad arrivare a questo punto, che non mi aspettavo nemmeno onestamente. Penso che comunque dovremmo dare qualcosa di più al commercio arianese, alla gente, ai clienti, perché è un gruppo veramente valido, già esistente prima sopra l'Ariano, quindi è un gruppo che comunque è stato già rodato. Penso soltanto di poter andare in modo positivo. Che cosa vi differenziate? La differenza nostra è il reparto macelleria, che è il fiore all'occhielo, ma è stato sempre il motore di traino del supermercato anche prima. Poi ci sta il gruppo dietro che comunque è valido, è forte, quindi penso che dovremmo rafforzare la nostra fiducia sul mercato da parte dei clienti. Una giornata importante, ben augurante e coincisa con la ricorrenza del Santo Patrono. In questo periodo in cui tutto sembra un po' a tinte scure, vedere una nuova attività che nasce, dice vita nuova. Siamo vicino alla Pasqua, oggi è il giorno di Sant'Ottone, ci ricordano tutte vita nuova, vita bella. E anche attività commerciali, che vogliono dare uno spiraglio di luce anche dal punto di vista occupazionale, di ripresa, credo sia importante. Ed è bello essere qui per questa benedizione, per questo inizio di questa nuova attività, che aiuta anche il nostro quartiere a crescere e a diventare punto d'incontro per tante persone. Deco, la tua scelta quotidiana.